Per evitare un cane avrebbe perso il controllo del mezzo, tanto da finire in una scarpata. Il rogambolesco incidente stradale si è verificato intorno alle 4.30 fra sabato e domenica in Viale Patini e ha visto protagonista una donna del posto che fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze. Stando alle primissime informazioni si è appreso che l'auto avrebbe stersato bruscamente per non investire il cane catapultandosi fuori strada. La paura è stata tanta, l'auto è totalmente danneggiata. Inizialmente si pensava al peggio a giudicare dalla dinamica del sinistro, ma fortunatamente per la donna che era alla guida, che ha fatto tutto da sola, non si sono registrate gravi conseguenze. Avrebbe riportato solo alcune contusioni ed è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e l'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna ferita in ospedale. Fondamentale è stata la cintura di sicurezza che la conducente indossava regolarmente. Diversamente l'incidente poteva portare a conseguenze ben più gravi e questo conferma quanto sia importante adottare tutte le misure previste dal codice della strada.